I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di sei persone, nei cui confronti sono stati disposti la misura cautelare degli arresti domiciliari e il sequestro di disponibilità finanziarie per un totale di 911 mila euro circa, quale profitto dei delitti contestati. Gli indagati sono indiziati a vario titolo per i reati di corruzione, per un atto contrario ai dover d'ufficio e falso in atto pubblico, finalizzati al riconoscimento di invalidità civili e alla conseguente percezione dei previsti benefici di legge. Le indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi, in stretta collaborazione con la Direzione Provinciale dell'Inps, hanno riguardato un collaudato sistema corruttivo composto da un dirigente dell'ASP di Palermo, Presidente di alcune commissioni provinciali per l'invalidità civile, un medico certificatore abilitato dall'Inps all'inserimento di certificati introduttivi per l'avvio delle pratiche di richiesta delle invalidità, diversi faccendieri intermediari tra il pubblico ufficiale e i soggetti richiedenti benefici assistenziali. Gli elementi acquisiti allo stato delle indagini hanno consentito di ipotizzare un meccanismo fraudolento posto in essere dal dirigente infedele che in cambio di denaro e altre utilità avrebbe redatto anche mediante l'utilizzo di documentazione mendace verbali di riconoscimento di invalidità senza la necessaria verifica dell'esistenza dei requisiti previsti. In particolare sarebbe emersa l'esistenza di uno specifico tariffario preteso dal pubblico ufficiale per distruttoria delle pratiche di invalidità che lo stesso avrebbe poi validato in autonomia senza il previsto vaglio collegiale della Commissione in violazione pertanto delle regole del procedimento in materia. Dalle indagini finora svolte sarebbe inoltre emerso che gli indagati, quale compenso per le condotte illecite, avrebbero preteso le prime mensilità dei benefici erogati o parte degli arretrati riconosciuti ai percettori, centinaia le posizioni attualmente al vaglio degli inquirenti.